Il ponte Margherita di Dragoni ad un anno e due mesi dalla chiusura è un tema ancora di forte attualità per i numerosi disagi che ha creato i cittadini e i tanti imprenditori che hanno le proprie attività nell'area industriale proprio al ridosso del viadotto. Questa volta l'attualità è dovuta all'inizio dei lavori di messa in sicurezza della struttura che a breve renderanno agibile almeno una corsia a senso unico alternato per il grande traffico. Noi siamo andati a seguire i lavori, come vedete, dalle splendide immagini realizzate dal nostro operatore e abbiamo sentito l'assessore provinciale alla viabilità Stefano Giaguinto per capire che cosa avverrà tecnicamente. Ma quali saranno i tempi veri dell'apertura? Lo abbiamo chiesto invece al presidente della provincia di Caserta, Silvio Lavornia. Intanto pregherei la regia di mandare in onta le due interviste. Allora, assessore, sono già iniziati i lavori sul ponte come da voi già prospettato, con il rispetto appunto degli appuntamenti, dei tempi. Noi da lei vogliamo sapere, siccome è anche tecnico, il tipo di lavoro che viene fatto qui in modo molto ovviamente sintetico. I lavori sono stati consegnati qualche giorno fa, stamattina l'impresa sta installando il cantiere e i primi lavori che saranno realizzati sono quelli del puntellamento per consentire da qui a 15-20 giorni al massimo di iniziare il transito veicolare ad una sola corsia garantendo naturalmente la sicurezza di chi transiterà sul ponte. Successivamente saranno realizzate le opere di messa in sicurezza che auspichiamo nel giro di 90 giorni di realizzare l'intero intervento, dopodiché apriremo il ponte alla doppia corsia di marcia. Naturalmente sempre limitatamente ai veicoli fino a 35 quintali, ma questo consentirà naturalmente di transitare con sicurezza e di poter usufruire del passaggio. Ecco, se possiamo andare un po' più nel tecnico, ecco, il tipo di lavoro che viene fatto, qual è esattamente? Per quanto riguarda il puntellamento serve l'amministrazione provinciale, il Presidente ha individuato quest'opera con i tecnici per consentire il primo transito, quindi il puntellamento serve solo ed esclusivamente per consentire il transito e per mettere gli operai in sicurezza durante i lavori. Dopodiché l'intervento del ponte sarà quello di alleggerimento e rafforzamento strutturale del ponte in modo da consentire il transito e di garantire sicurezza. Le faccio una domanda che va al di là del ponte. Lei è delegato alla viabilità, quindi in tutta la provincia di Caserta. Che cosa si prevede a livello di strade se c'è un programma immediato? Lei conosce bene la situazione delle strade nostre, che sicuramente non è il massimo. Sicuramente la situazione delle strade provinciale non è delle migliori, così come anche quella dell'edilizia scolastica. Purtroppo le province sappiamo benissimo in che stato si trovano. La situazione futura delle strade è quella che stiamo cercando di garantire il minimo indispensabile nel senso di poter semplicemente fare una manutenzione che possa tappare i buchi, letteralmente tappare i buchi. Quello è quello che stiamo facendo. Auspichiamo che in questi giorni da parte del Governo centrale ci sia una risposta forte a quanto si sta chiedendo in questi giorni da parte di tutte le province, con il Presidente Lavornia che sta facendo la spola a Roma per traghettare questa provincia fuori da questa crisi e auspichiamo che le strade possano ritornare a quelle che erano una volta percorribilissime in questa nostra provincia di Caserta. Allora Presidente, dicevo anche all'assessore Giacquinti i lavori sono iniziati, intanto ci vuole parlare un po' dei tempi quali saranno i tempi? I tempi sono stati già identificati più o meno insomma logicamente speriamo che il tempo mantenga noi siamo nei venti giorni naturalmente se riusciamo a fare prima abbiamo pregato la ditta esecutrice di farlo perché è il nostro interesse oramai qua noi c'è un grido di dolore anche qua per il Ponte Margherita c'è l'esasperazione della gente c'è l'esasperazione di noi amministratori sia comunali che provinciali perché tra le altre cose vengo toccato in prima persona e come cittadino di Dragoni come imprenditore e come sindaco oltre che Presidente della provincia di conseguenza il nostro interesse è quello di fare in fretta adesso intanto sono iniziati i lavori stanno allestendo il cantiere è stata fatta la consegna dei lavori l'altro ieri mattina tra l'altro c'è stata un'ordinanza del prefetto per la chiusura totale ma noi siamo riusciti a mettere insieme la chiusura per ordine del prefetto ma del resto l'ordinanza già era presente precedentemente ma adesso con la chiusura totale e quindi con il puntellamento della parte sinistra andando verso l'IFE che dovrebbe terminare nel giro di 20 giorni quindi questo significa che dopo 20 giorni? apriremo questa corsia di sinistra a doppio senso ovviamente massimo 35 quintali con il semaforo e con la vigilanza anche della polizia provinciale dei carabinieri che ci hanno assicurato la loro collaborazione bravo dicevo quindi un messaggio agli imprenditori particolarmente che stanno subendo un messaggio agli imprenditori di mantenere dura la situazione di essere forti di superare questo momento per quello che potrà essere possibile noi staremo vicino soprattutto come comune cercherò di stare vicino come del resto lo sono sempre stato qualcuno ha pensato che era diversamente ma non è così noi lavoriamo per il territorio lavoriamo per la nostra comunità perché il nostro principio compito è proprio questo e noi faremo il nostro dovere dal ponte Margherita di Dragoni è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti Grazie a tutti